La Regione deve avere l'ultima parola sul progetto del raddoppio ferroviario della Roma-Pescara e il senatore D'Alfonso a sollecitare la presa di posizione dell'ente abruzzese invocando l'articolo 117 della Costituzione, quello che definisce la potestà legislativa di Stato e Regioni. Senza il sì della Regione non si definisce il tracciato dell'opera pubblica. A questo punto noi abbiamo un commissario straordinario, abbiamo una sezione speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per dare parere, abbiamo un soggetto specializzato nel fare progetti che è Italfer, abbiamo una stazione specializzata a fare gare d'appalto che è RFI, abbiamo degli enti locali che hanno trovato la soluzione ai problemi che hanno prefigurato, abbiamo dei cittadini riuniti in comitati di cittadini che vogliono aiutare la soluzione per evitare che quest'opera pubblica venga rovinata dal dissenso e dal contenzioso. Si tratta adesso di usare i poteri che ci sono sul territorio per fare le grandi opere pubbliche. C'è un progetto di RFI a riguardo del quale, secondo lei, quale posizione dovrebbe prendere la Regione? Quella di richiedere nei segmenti di conflitto e di assoluta inopportunità progettuale che si facciano modifiche. La progettazione a regola d'arte non è una qualsiasi progettazione gonfia, è una progettazione corrispondente alle caratteristiche dei luoghi, alle abitazioni che si riscontrano nei luoghi, alle attività economiche. Si può trovare una soluzione che faccia salva rapidità, efficacia della progettazione del cantiere e anche rispetto del consenso domandato. Quindi così com'è non va bene, deve essere modificato il progetto? Ci sono delle parti che si possono modificare che corrispondono al 25-30%. Non è grande questione sul piano della consistenza. Si tratta adesso di metterci la dedizione, la collaborazione e la serietà. Io questa me l'aspetto da RFI e da Italfair. E mi aspetto che le regioni e tra le due la mia regione assuma iniziativa come scritto sulla carta costituzionale.